Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Grace, proseguiamo la nostra avventura con il gioco di Ghost Recon with Lance. Ok amici, mappa! Allora, dunque, come detto precedentemente, andremo a raccattare questo cattivo N4. Ramon Felice ha deciso di tradire il cartello e ha svelato l'esistenza di un giro di traffico di bambini gestito dal cartello. Arrivate da Felice e scoprite quello che sa prima che il suo egno lo faccia uccidere. Ok, quindi, reddico Terino. Dunque, vediamo un po', smontiamo direttamente il silenziatore, intanto andremo là cazzuti ai cattivi e partiamo ragazzi. Ok, dunque, siamo quasi arrivati, vediamo qua se riusciamo a salvarvi la vita. Allora, un po' di raggio, direi qua. La casa di Felice è più avanti, diamoci una mossa prima che lo prenda il cartello. Ok, via dal cazzo. Andamolo a raccattare ragazzi. Merda, è troppo tardi. Felice è morto. Cazzarola, l'hanno già seccato. Eh. Selvaggi del cazzo. I suoi dati dovrebbero essere qui da qualche parte. Ok. Controlliamo il compoter, compoter, bello, tre schermi, cazzo. Un signor compoter. L'ho già potuto dire. Merda, l'hard disk non c'è. Bowman, Felice è morto e il suo hard disk è sparito. L'assassino ha combinato un bel casino o sbaglio? Come fai a saperlo? Quell'idiota ha postato un selfie sulla scena del crimine. Ha anche taggato la sua posizione. Vi mando le coordinate. Fate la svelta e recuperate l'hard disk di Felice prima che venga distrutto. Ci muoviamo. Ok. Uno e mezzo. Vediamo un po' ragazzi. Dov'è quest'altro cattivone qua? Ramon Felice ha deciso di tradire il cartello. Questo ce lo sapevamo. L'esistenza di un giro di traffico di bambini gestito dal cartello. Allora, raccattiamo il nostro elicoppero. Andiamo a beccare questo hard disk qua. Ok. Dunque dovrebbe essere in macchina. Esattamente qua. Allora. Bowman, siamo a Flor de Oro. Gli alberi saranno anche belli. Ma quella provincia è il cuore della corruzione dell'Unidad. Dobbiamo rovinare l'idilio tra Unidad e cartello. Quindi dobbiamo uccidere il generale Baro. Il comandante dell'Unidad è difficile da trovare? Non sappiamo dove sia il generale. Ma ci hanno parlato di un centro dati alla base Hawar dell'Unidad. Secondo la nostra fonte è pieno di informazioni sul personale. Potremmo scoprire qualcosa sugli affari più loschi dell'Unidad. Mi sembra un buon posto per trovare indizi sul generale Baro. Vi invio le coordinate della base Hawar. Il centro dati potrebbe essere sottoterra per tenerlo al fresco. La nostra fonte non ci ha dato nessuna password, quindi dovrete violare la sicurezza. Vedo il nostro killer. Ci serve quel hard disk. Prendiamolo vivo. Ok. Controlliamo. Interroghiamo il tipo. Ehi, che cazzo è? Preso, bastardo. De cosa stai parlando? Non ho fatto niente. Ti sei fatto un selfie con la vittima, idiota. Hai visto? Che figata, eh? Pensi che sia una figata? Vedrai cosa ti farò io. Spoiler, ci sono un cavo di metallo e un bel po' di elettricità. Ma cazzo, dai. Che cosa vuoi? L'hard disk di Ramon Feliz. Adesso. Quello? Oh, l'ho mollato a quei nerd degli hacker. Non lontano da qui. La puta di tu madre! Recuperiamo quell'hard disk prima che il Santa Blanca lo formatti. Cazzarola, ragazzi. Dobbiamo recuperare anche questa minchiazza di hard disk. Vediamo un po'. Innanzitutto dobbiamo nasconderci che stanno arrivando gli altri cattivi. Noi segnali di nemici per qui. Continua la buschera. La stroppa sostile sabato d'aro in questa zona. Toda da assuridare salga del servizio. Prendiamo il nostro elicottero. E svolizziamo le giardine nel cielo. Dunque. Qua. Ramon Feliz ha deciso di tradire il cartello. Adesso già lo sapevamo. Ramon Feliz ha deciso di tradire il cartello. Abbiamo fatto un bel casino. E ha svelato l'esistenza di un giro. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo, ci siamo. Oddio, un terraccio. Proseguiamo. Allora, vediamo se è il caso di montare il sinistratore. Cazzo, non avrei mai detto che ci sono dei nemici. Meno male che ci sei Teo. Ok, cecchino. Raggiungo la posizione. C'è un allarme. Vedo un secondo bersaglio. Bersaglio marcato. Bersaglio perso. Un terzo. E sono cinque. Cazzo rola, ragazzi. C'è un bersaglio con mitra. Ok. Ok. Selezioniamoli tutti adeguatamente. Ne vedo uno con i mitra. E poi, mi sembra che dalla minimappa ce ne è un contrassegno qua. Ne ho visti dieci. E anche qua dietro. Roger, raggiungo la posizione. Vado in posizione. E direi di sicuramente anche questo. Ok, mi muovo la posizione. Nessun bersaglio acquisito. Nessun bersaglio. Ripeto, nessun bersaglio. Pronto al fuoco. Attacco il nemico. Allora, sparacchiate. Sparacchiate le chi è aperte. Tutto ok, tutto ok. Ok. Avanziamo. Ci avviciniamo al posto dove il killer dovrebbe aver lasciato l'artisco. Occhi aperti. Ehi, soldato del cartello. Accanto alla pila di pneumatici. Allora, vediamo se riusciamo magari a cecchinare. Proviamoci, ragazzi. Proviamoci. Ho cambiato anche il fucile da cecchino. E questo mi sembra un po' più cazzuto, eh. Allora. Vediamo se riusciamo a vedere qualcuno a distanza. È che siamo in una zona un po' non buona. Allora. Ok. Pensateci voi, ragazzi. Versaglio acquisito, in attesa. Versaglio perso. Roger, bersaglio marcato. Ok. Dai, dai. Visuale sul bersaglio persa. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo stare attenti a non attivare il cattivone quello lì. E' assoluto lì. Allora. Dunque, facciamo così. Droneggiamo. Andiamo a selezionare. E selezioniamo. Quello. Questo. Questo. E questo. Questo lo secchiamo noi. Ok. Ok. Silenzio, marci. Parla, pezzo di merda. Interroghiamo anche questo, ok? Non sono una spia, ma ti dirò una cosa. Dai, dai, dai. Fotiti, fotiti. Per marcatare l'informazione. Ecco l'hard disk, prendiamolo. Merda, vengono da questa parte. Che facciamo? Bowman, abbiamo l'hard disk di Feliz. Ottimo lavoro, è intatto? Affermativo, abbiamo collegato una chiavetta. Ti stiamo inviando i dati. Eccellente. Stando al blog di Feliz, il Santa Blanca ratiscia i bambini boliviani e li manda in Brasile, Argentina e Messico promestiano. Ora possiamo rendere pubblica le prove. I trafficanti di minori non piacciono a nessuno. Nemmeno agli spacciatori. Ok, ragazzi. Ottimo, abbiamo raccattato l'hard disk. Purtroppo il tipo è morto, però lì non ci potevamo fare niente. Versaglio marcato. Ok. Questi li andiamo a seccare. Dopodiché. Questi li abbiamo sistemati. Adesso andiamo a vedere un attimo la mappa. Eh ragazzi, un attimo che finisco di... Cargo su qua. Ok, adesso abbiamo mancato la mappa. Mi sembra che qui da raccattare non ci sia nient'altro. Granata! Ok, con tre era distrutta. E meno male che non siamo arrivati proprio lì nei pressi con il nostro elicottero. Anche perché se no ci inchiappettavano subito egregiamente. Ok. Stuggiamo anche questo. E siamo a posto. Allora, dunque. Mappa, mappa, mappa ragazzi. Quindi, anche Ramon Feliz è stato eliminato. Purtroppo non da noi. La gringa l'abbiamo salvata. Ok, perfetto. Quindi, successivamente ci dedicheremo alla Santera. Ok. Che sarà in questa zona qua, come ho detto precedentemente. Dunque, in questa zona qui, la Cruz. Presuppongo che ci siano solo dei dossier o delle casse d'armi da andare a raccattare. Nulla di che. Infatti, non è venuta fuori nessun'altra missioncina. Quindi, casomai, la andrò a tenere per ultima, questa zona. Tanto, diciamo che è quasi inutile andarla a fare adesso. A meno che, appunto, come ho detto successivamente, non vengano fuori altri cartivoni da andare a prendere. Eh? Ok, ragazzi. Io direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi sia piaciuta. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se vi è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Vi ringrazio per il mio segreto. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.